ma non ho capito i ristoranti i felini pesce dai amore i felini no i felini sono sono dei ristoranti sono una cosa nota non ho capito cosa che sono i felini c'è felini scritto f e l i non ho capito scusa allora sono una sottofamiglia della famiglia dei felini sono accaduta di una testa di forum il muso corto il corpo è ricoperto di pelliccia sono tipo gano quindi spiega un attimo a tutti cosa sono i felini adesso no tipo un gatto no no sono quelli che derivano da una famiglia da amore sembro stupida una tigre scusa non ho capito quindi quali sono i felini ocelotto leopardus gatto di palace cos'è il leopardus è un animale ma quindi il gatto è un felino certo sì no però aspetta prima hai detto che il gatto non era un felino adesso è un felino sì sì sono certa perché ho fatto comunque abbiamo deciso ci prendiamo un leopardus more stasera usciamo c'è il temporale c'è il temporale mangiamo la focaccia e andiamo ad alloggiare un film dentro le capressante giusto quindi stasera capressante alloggiamo un film cosa che hai appena detto scusa animale da lana aniello aniello si dice aniello si dice aniello no non ha tirato in mano aniello 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 si carne di aniello carne di aniello aniello agnie di aniello non vorrei gu abbiamo smesso di mangiare per colpa tua ti prego fermati finché sei in tempo potresti ancora essere mio amico cosa stai facendo ragazzi sto per mangiare questi grilli ma ormai c'è il migliore mancino lo stino di griglio di griglio di griglio di griglio con olio piccato un buon sì occhio